Nessun euro è andato a finire nelle tasche del Presidente Turvalde, è un'affermazione che ha fatto lo stesso Procuratore Rispoli, evidenziando l'onestà e i grandi risultati dell'azione politico-amministrativa svolta dal Presidente negli anni in cui ha diretto la provincia. Quando l'organo preposto al controllo per ben otto anni sancisce la regolarità delle spese e dell'utilizzo dei fondi del Presidente Turvalde e per otto anni di fila certifica la legittimità della contabilità dei fondi riservati, ciò non può produrre un'imputazione per un'ipotesi di reato di peculato.